Viva! 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 Grazie, fedelissimi. Siete in fondo? Sì. Ammato. Otro del giorno è il debbo. Sarò breve e ci cocciso. Oggi, in occasione appunto del debbo, io dico e vi dico, in qualità di contottieri dei brigati rossonere, che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa. Viva! 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 Viva!